cari amici ben ritrovati sul mio canale youtube deluxe bene oggi dopo tanto e tanto tempo ci rivediamo perché questa sera la nostra nazionale di pala canestro maschile italiana in quadri ivorno affronterà l'ucraina ovviamente noi siamo già qualificati per la fase finale del mondiale che si giocherà proprio quest'estate ora 21 diretta in contemporanea sia su sky perché alla pdv che su rai sport e rai play quindi forza italia forza sinner perché il nostro aldotesino gioca questa sera massilia nel torneo atp e forza ferrari domenica prossima inizio il mondiale 5 marzo ciao